ecco qua siamo di prima mattina e come vedete il letto è perfettamente fatto questo perché me l'hanno spiegato al militare quando ho fatto il servizio militare la mattina facevano fare il letto la regola era molto semplice in pratica dicevano che bisogna sempre fare il letto appena ci si sveglia la mattina perché perché se la giornata va male se uno è molto faticato se ha qualcosa che non va almeno non torna a casa deve pure rifare il letto che diventa una tortura invece ha già il letto pronto ci si siede ci si addormenta e così riesce a dormire anche meglio se invece la giornata è andata bene abbiamo avuto un premio non c'è neanche il letto da fare perché già fatto quindi mattina la regola anche qua in roulotte anche durante le giornate del salone del camper è quella appena ci si alza si fa il letto volevo ringraziare il servizio militare per avermeli insegnato